Facciamo il punto perché ci sono tanti spiritosi in giro, intanto domani da Napoli dicono visite mediche fissate per Alessandro Buongiorno, complimenti clap, 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 unico acquisto oggi del Napoli degno di nota, speso un sacco di soldi ma hanno fatto bene. Ricordo che Buongiorno non è ancora stato ufficializzato ma lo sarà ormai, insomma a parte quello che ha detto il DS del Torino che ha fatto preoccupare forse i tifosi del Napoli ma oggi Marco Giordano in diretta su Controcalcio mi ha rassicurato, insomma Buongiorno domani farà le visite. Allora, Buongiorno è costato un patrimonio? Sì, è forte? Sì, ha fatto bene il Torino? Sì, è ancora un punto di domanda? No, credo che ormai Buongiorno sia un giocatore fortissimo e arrivato anche se ha 25 anni, non ne ha 19-20 come quando Bastoni è arrivato all'Inter e comunque anche lì Bastoni, giovane, però un po' di esperienza, Parma-Atalanta l'aveva fatta, qui c'è tanta esperienza al Toro che è sicuramente una squadra a cui va la nostra simpatia ma non è una grandissima squadra. Buongiorno ormai è maturo però insomma non è che è un ragazzino, è arrivato e investire questi soldi vuol dire prenderlo in un momento in cui è tra virgolette all'apice senza essere mai stato, è una grande squadra. Dopodiché, mi spiace, ma Rafa Marini è un giocatore molto aggressivo, Rafa Marini è un giocatore dove il Real ha esercitato la ricompra, però se il Napoli mette di più poi il Real può ricomprarlo, lo ha preso, lo ha prelevato anni fa, non mi ricordo da dove, lo ha dato in prestito alla Lavesh. Abbiamo visto tutti, qui prendono per il culo, ma io guardo 60 campionati qua sulla bella television, poi mi metto qui, guardo, studio, mi diverto Sud America, anche il calcio africano. Poi è chiaro che non li conosco tutti, per dire io Enzo, Lefede e Ren proprio non me lo ricordo in azione, poi non mi ricordo neanche il gol e vabbè comunque non li conosco tutti. Ora, buongiorno è un ottimo acquisto, bene, come ha detto Criscitiello, buongiorno non sarebbe mai andato il Napoli se non ci fosse stato Antonio Conte, perché Antonio Conte fa la squadra, Antonio Conte decide anche, come dice, non dico io, ma Criscitiello, anche quando i giocatori bevono il caffè. E fino a che De Laurentiis non sarà geloso di questo, il Napoli viaggerà a gonfierele. Detto questo, Rafa Marin, che è un bestione anche un pochino rissoso, ha sempre giocato a quattro. E neanche centrale, ma un po' terzino, non so se viene a fare la riserva, gioco l'Ivera, non lo so, so che Rafa Marin non è quell'acquisto da 12 milioni che mi fa, poi magari è un grande, non so. Quando Godin viene all'Inter, mi pare per zero, credo che fosse venuto, arriva all'Inter di Conte che lo tira nuovo, ma non lo vede benissimo, quando ha praticamente 20 gol e una strage di trofei all'Atletico, ha 33 anni, non mi ricordo, quindi sono scelte diverse. Però, ripeto, se vuoi un giorno un ottimo acquisto, strapagato, Rafa Marin con le varie ricompre e contro ricompre, non mi convince tantissimo. Così come Spinazzola, ragazzi, Spinazzola ha fatto in 13 anni di Serie A, barra qualche anno in Serie B, ha fatto i primi gol nella Roma, perché gli altri li ha fatti nel 2012-2013. Ok, cioè Spinazzola non fa un gol nella Juve, non fa neanche un gol nell'Atalanta, Spinazzola è un esterno che mi piace molto, stava arrivando all'Inter al posto o nello scambio con Politano, un altro giocatore che non mi ha mai fatto impazzire, e poi succede quello che succede, gli spetti fra l'Inter e Roma, il posto GECO, eccetera, eccetera, e Spinazzola viene bocciato alle visite, insomma, e lo scambio non si farà, e poi Politano verrà venduto al Napoli per più di 20 milioni, forse c'è sotto qualcosa, nel senso che l'Inter magari poi aveva avuto questa offerta dal Napoli, che ha preferito, non lo so, comunque non faccio il maestro di litologia, mi limito a dire che Spinazzola ha più di 31 anni, sicuramente sarà andato a fare la riserva, non è uno che ha tantissimi gol nei piedi, neanche nell'Italia dove ha fatto un europeo da sballo, ha mai fatto un gol, non è il suo ruolo fare gol, è vero, però dai dati mi aspettavo qualcosa in più, quindi Spinazzola non vale D'Ambrosio, secondo me, cioè nella carriera mi tengo tutta la vita Danilo D'Ambrosio, e uno Spinazzola, e Rafa Marin è uno che può diventare il nuovo Sergio Ramos, non credo, può diventare un Milenkovic, sì, poi con Conte, ripeto, il Napoli ha fatto un salto enorme, quindi sicuramente mister Conte saprà come valorizzarli, però ad oggi ci hanno ancora il Napoli, ci hanno il problema di Kvara, quello di Di Lorenzo, Conte sistemerà tutto, però poi davanti vediamo se arriverà Lukaku, eccetera, eccetera, una cosa che credo è che Raspadori, se rimarrà a Napoli, farà un sacco di gol con Conte e magari Lukaku-Raspadori sarà un pochino la nuova Lula, quindi non è che rosico, sono contento se il campionato diventa interessante, però gli acquisti che vedo, ok, andiamo sul discorso che è Frenthuram, ormai è un passo dalla Juve, già parlano di Cobbmener, 60 milioni, una cifra enorme, l'Inter con 60 milioni, oggi ho fatto la pallina, no cazzo, ho fatto anche, guarda, l'Inter con, qui c'è una roba dell'IKEA, l'Inter con 60 milioni, ok, perché poi si parla di 60, 65, l'Inter con 60, 65, ha preso, più o meno, Marella, Fatesi, Cialami, Chittarian, Zelischi, Turan, Sanchez, Sommer, De Vrij, Acerbi, Dagnan, Godin e molti e molti e molti e molti, Young e molti altri, quindi la Juventus più o meno la stessa cifra, prende solo un calciatore, è molto forte, quando arriverà lo commenteremo, è veramente forte, Cobbmener è fortissimo, ma anche Turan mi piace, ho dei dubbi invece su Douglas Lewis, per quanto riguarda la Roma, prende Enzo Lefe, un ragazzo sfortunato, col papà che purtroppo ha fatto un brutto gesto verso se stesso, e un calciatore giovane, pagato anche parecchio, che io non conosco, mi sembra che la Juve a volte, e la Juventus della Roma a volte avanzi a Tentoni, e Baldanzi, Enzo Lefe, non lo so, non è uno che mi ha impressionato, ma ripeto, non lo conosco, ha giocato nel Reine, prima non so neanche dove, vediamo un pochino, non fa parte della nazionale francese, vediamo un pochino. Poi, per quanto riguarda l'Inter, il rinnovo di Inzaghi è a un passo, penso che abbia vinto lui, nel senso che avrà quel famoso anno in più che voleva, per quanto riguarda, quindi sarà contento, sarà felice e tranquillo, ci sarà la conferenza stampa venerdì insieme a Marotta, vedremo cosa diremo, ma un po' ce lo aspettiamo, in bocca al lupo a Inzaghi, a Marotta, a tutta l'Inter, poi venerdì faremo una turbo aero diretta. Per quanto riguarda il Marsiglia, dove Ravanelli, che saluto, abbiamo fatto un sacco di trasmissioni insieme, è andato a fare il consigliere, proprio il Marsiglia vorrebbe Carboni, lo vuole, non lo so, De Zerbi, l'Inter non scende solo i 35, io lo darei anche per meno, ma spero di sbagliare io, perché mi fido dell'Inter, non fidatevi di me, fidatemi dell'Inter, ma la valutazione di 35 è altissima. Per quanto riguarda il resto, Fonseca oggi ha parlato, ma il Milan fa zero acquisti e si è spazientito, persino il buon Arrigo Sacchi. L'Inter prende Topalovic, che non conosco, un attimo che è partito tra la pubblicità di non so che cosa avevo aperto, di due coglioni! Cos'è che si è aperto qua? Un attimo solo che chiudo che qua, che due palle! Allora, stavo dicendo... No, volevo commentare, mi sono messo qua le notizie. Allora, dicevo... Ok, eccolo qua. Di Spinazzola abbiamo parlato, abbiamo parlato anche di Rafa Marin, di Godino ho fatto quell'esempio, di Buongiorno ho parlato, in rapporto anche al discorso di Bastoni. Turan dicevo che è uno invece che è forte, inizia... è una squadra che ormai stabilmente partecipa alla lotta per la Champions, ci è andata poche volte, però è una squadra forte. Turan è un calciatore, insomma, non è male. Poi è chiaro che se lo confronti con altri francesi nel Giro della Nazionale, ci sono calciatori che alla sua età hanno già sollevato 200 miliardi di trofei. Ok, ora, occhio perché quello che avevo raccontato tramite un carissimo amico che saluto, no, non faccio il nome, anche se oggi gli ho scritto per avere... non mi ha ancora risposto perché all'epoca abbiamo parlato insieme, anzi, mi aveva raccontato, insomma, che l'Inter si era interessata a Kim, che Kim era insoddisfatto al Bayern. Eccoci qua, De Vrij riceve una mega offerta confermata da Pastorella da ausilio da parte del mondo arabo, della città di Jeddah, dove tra l'altro dovrebbe, non si capisce, andare ad allenare Pioli e sembra che il contratto sia molto ricco, che De Vrij ci stia pensando e che l'Inter lo venda a una cifra importante, De Vrij sta facendo un grande europeo, De Vrij è un grandissimo uomo, un grandissimo campione, una persona meravigliosa. Lo saluto caldamente, l'ho abbracciato un mese e mezzo fa all'Inter, ma è veramente un numero uno, suonare il pianoforte, un gallo di Dio, avrebbero detto negli anni Ottanta. Ora, ovvio che l'età, ovvio che, pensando a Kim, mi gaso, perché Kim è un calciatore forte fisicamente, intelligentissimo, dirigente. Non lo so come mai De Ligt non è andato bene al Bayern, ora sembra che vada insieme anche lui, a Zivze, e tutti gli olandesi da Tenaga allo United. Non lo so, perché anche lui, Kim, come De Ligt non ha funzionato, non lo so, non lo so. Il Bayern è un periodo che fa confusione, non lo so. Un po' come lo United. Sono squadre che a volte vanno su un calciatore, sbagliano e sanemane ai litigi interni, non lo so. Comunque, resa il fatto che l'Inter vuole un prestito, me lo dai, lo valuto, te lo pago, il prestito oneroso e poi ci penso. Il Bayern ha detto no, sembrerebbe alla prima offerta. Poi vi dico che ho chiesto, perché ho chiesto e se mi dice qualcosa. Gli ho chiesto di sbottonarsi su Kim, perché poi la notizia l'abbiamo data preso per il culo da tutto il web. Oggi l'Inter è su Kim. E al di là di Ermoso e di altri nomi su cui non so nulla. Di Kim lo sapevo da, non lo so, mi pare fosse... Era una partita dove ero andato al primo arancio per fare una roba... Allora, con uno sponsor... Vabbè, comunque, mi pare fosse inizio primavera, insomma, una cosa così. Dicevo che il problema di Kim, ecco, mi ero incantato, è l'ingaggio. Prende 7, 8, non lo so, vediamo, 7 e mezzo. Il problema è quello lì. Per quanto riguarda, quindi, il futuro, mi affido alle fonti e spero di farlo presto, così come per primo, nel pluriverso. Vi ho parlato di Kim, che era una roba dove sono stato preso per il culo per... Io mi ricordo ancora, è il procuratore di Kim, è il procuratore di Kim! Tutte le puntate di controcazzo. Poi, anche gente che mi veniva per il culo su Twitter. E oggi, suca, 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 suca. Ok? Se no, domani vado in regione, che l'Inter riceve l'ennesimo premio e cerco di chiederlo direttamente al buon Marotta. Ora, Topalovic, non lo conosco, lo veno. Boh, mi spiace, ma non so cosa dirvi. L'Inter lo ha preso, ma veramente non saprei cosa dirvi. Il 2006 l'hanno inserito nei migliori. 2006, vabbè. Intanto, intanto, Bordon, che era il portiere, voi siete nati magari con Andanovic o con Giulio Sesi, io sono nato con Bordon, campione del mondo, riserva di Zoffa, Spagna 82. Il mio portiere, il mio primo portiere, dice che l'Inter avrebbe dovuto prendere Di Gregorio, che tra l'altro è nato nell'Inter, eccetera, ma non ti fa Inter, ve lo ricordo. Non che sia importante, ma ha smesso di seguire tutti gli intervisti, eccetera. Magari un po' arrabbiato, però insomma, Bordon dice che poteva prendere, come si dice, l'Inter poteva prendere lui e non prendere, come si chiama, Martinez. Di Gregorio è molto forte, però Martinez vedrete che vi stupirà. Un portiere regista, beh, vediamo un po'. Per il resto, tanti giovani che sono in uscita dall'Inter, così come il piano della Juve sui giovani è fallito, anche quello dell'Inter, è così, anche quello del Milan. I giovani purtroppo sono carne da macello in questo mercato, dove poi si cerca di fare delle instant team per vincere subito. Fatemi pensare, se c'è qualcos'altro che non vi ho raccontato, Chiesa dovrebbe andare alla Roma e questa dovrebbe essere la sua destinazione, anche se il Napoli lo vuole. Oggi non lo vorrei più, mi ha un po' stancato il suo modo di giocare, io ero un suo grande fan, oggi lo lascio volentieri ad altre squadre. Per quanto riguarda il resto, venerdì sarà la giornata più importante, le amichevoli le conoscete e basta, insomma. Dallo sponsor a San Siro, tante cose positive. Sala ha lasciato decidere e pensare Inter e Milan su questo ammodernamento costoso, ma figo dello stadio. E per il resto, non lo so, su Pirola mi ha scritto un ragazzo dicendo che insieme a Vasquez, addirittura De Genoa si aggiungono, beh Vasquez mi piace, Pirola non mi è mai piaciuto particolarmente, però anche loro si aggiungono al cast per la difesa, anche se poi in prima linea, ripeto, dovrebbero rimanere Ermoso e il sogno. Kim, a presto!